Pronto? Pronto, sì? Chi parla? No, 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 dico, no, no, dico prima io, dica prima, no, ma scusi, lei con chi vuol parlare? Eh? California? Cali... Mi chiamano da Hollywood. Pronto? Pronto, sì? Sì? Come... Avreste già... No, no, non ho capito bene, scusi. Avreste già fatto... Ma senta, guardi, se lei ha... senta, se lei ha voglia di scherzare, io non ho nessuna voglia... No, guardi... No, se non ci siamo capiti bene. No, guardi, no, non ci siamo... Lei è un maleducato. Sì, lei è un maleducato. Un maleducato e un bugiardo. Un bugiardo, sì, esattamente, un bugiardo. Bugiardo della California. Niente, sono dei pazzi, dei pazzi scatenati. Sostengono che, sostengono che questo film, cosa assurda, l'avrebbe già fatto parecchi anni fa. Un certo, un certo, un certo... Prisney, Prisney, Grisney, un americano, insomma. E in ogni caso, prima di parlare, caro lei, mi faccia il piacere di guardarselo il film. Ha capito? E dove siamo?